Ciao amici, bentornati nella mia cucina. Domenica prossima, 11 dicembre 2022, vi aspettiamo ai spazzoli. Dopo ben 14 anni, riapriamo in bar di famiglia la nostra bottega. Sta bottega di Monoserra, che era il nono di nonna. Lì troverete alcuni cinelli della nostra famiglia, una vasta gamba di prodotti da spare, tra cui la pasticceria, potreste sedervi e gustarvi una peppa di torta, accompagnata magari da una tisana calda o da un buon caffè. In quell'occasione potrete gustare tra l'altro, suvanezava, eccolo qua. Alle ore 15 io vi presenterò il laboratorio di suvanezava. Potrete formi qualunque tipo di domanda, naturalmente sarà la ricetta storica che ha attraversato ben tre secoli. Ora vi chiederete cosa c'entra questa musica per tutto ciò. Com'è? Ad accogliervi ci sarà Monica Tionici, una mia carissima amica, l'autrice di questo interessantissimo libro. Le Indercer vi porterà ancora con dietro nel tempo, all'epoca della giudicessa di un'ora barborea. Vi aspettiamo! A presto! Ciao! 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 Grazie a tutti.